Sappiamo che una corrente elettrica produce un campo magnetico. Vediamo cosa succede quando questa corrente elettrica, che scorre ad esempio in un filo, viene interrotto da un condensatore. Quindi consideriamo un filo percorso da una corrente I e interrompiamo questo filo utilizzando un condensatore ideale a facce piane parallele. Noi sappiamo che questo circuito sarà chiuso su una batteria, ad esempio su un generatore. Noi sappiamo che pian pianino la corrente scorrendo accumulerà carica positiva sull'armatura di sinistra, lasciando scoperto una carica negativa sull'armatura di destra, per poi andarsi a richiudere quindi sul generatore. Quindi ho della corrente I che scorre effettivamente nei fili, ma non all'interno del condensatore, perché all'interno del condensatore cosa sta succedendo? Una carica positiva più Q si sta formando su questa armatura, una carica che ovviamente dipenderà dal tempo perché man mano che il condensatore viene caricato il valore di questa carica aumenterà. E lo stesso rimarrà scoperta una carica negativa risucchiata via dalla corrente del ramo di destra che anche lei cambierà nel tempo. E quindi il campo elettrico all'interno del mio condensatore è un campo elettrico variabile, perché se queste cariche variano nel tempo, anche il campo elettrico all'interno varierà nel tempo. E quindi lo possiamo chiamare E con T, per identificare la variazione e la dipendenza dal tempo. Adesso proviamo, chiediamoci, di calcolare il campo magnetico in un punto P, che dista una certa distanza R dal filo, e chiediamoci quanto vale il campo magnetico in questo punto. Possiamo utilizzare vari modi per calcolarlo. Ad esempio, possiamo applicare il teorema di Ampere. Sappiamo che la circuitazione lungo una linea chiusa del campo magnetico è sempre uguale alle correnti che concatenano questa linea chiusa moltiplicata per μ con 0. Quindi se scelgo una linea chiusa che passa per P e, data la simmetria del problema, sarà una circonferenza centrata nel filo stesso, quindi considero una circonferenza che passa per P ed è centrata nel filo, e chiamiamo questa circonferenza γ. Se adesso vado a calcolare la circuitazione di B intorno a γ, cosa dovrò scrivere? Devo scrivere che la circuitazione lungo γ del campo magnetico B è uguale a μ con 0, le correnti concatenate alla linea γ stessa. Una corrente concatenata che cosa è? È una corrente che attraversa una superficie che ha come bordo γ. Quindi capite che io posso scegliere infinite superfici che hanno come bordo γ. La più semplice è la superficie del cerchio che ha come perimetro γ, quindi il cerchio di raggio r piccolo. Se guardiamo, questa superficie è attraversata dalla corrente I e quindi dovrei scrivere nella formula μ con 0 per I. Ma non è l'unica superficie che posso scegliere. Posso anche scegliere una superficie che ha come bordo γ, ma ha una forma qualsiasi che attraversa il condensatore. Immaginate, è come se prendeste un palloncino, l'anello del palloncino stesso è la linea γ e il palloncino è la superficie che ha come bordo γ. Quindi in base alla forma del palloncino e a quanto voi lo gonfiate ottenete una superficie che ha come bordo γ sempre diversa. Quindi immaginate di scegliere una superficie che non sia semplicemente l'area racchiusa da γ, ma sia una superficie di forma complessa che passa per il condensatore e che si richiude su γ. Quindi una cosa di questo tipo. Quindi vedete, è come se fosse una borsa aperta lungo γ e che poi avvolge il mio condensatore. Bene, se adesso io calcolo la circuitazione di B lungo γ, tenendo però questa superficie come superficie di riferimento per l'attraversamento della corrente, capite che adesso la mia circuitazione diventa, la circuitazione lungo γ di B non sarà più pari a μ con 0i, ma sarà pari a μ con 0 per la corrente concatenata con γ, ma che questa volta attraversa la superficie che ho disegnato in blu. Bene, se ci pensate, questa superficie blu non intercetta mai la corrente I, perché passa solo e soltanto attraverso il condensatore, dove corrente non ce n'è. Quindi qui io dovrei mettere 0 e quindi la mia circuitazione sarebbe pari a 0. Capite che c'è un paradosso, perché in un caso, quello in cui considero come superficie di attraversamento l'area del cerchio di raggio R, ottengo una circuitazione diversa da 0 e quindi un campo B diverso da 0, mentre invece nell'altro caso, in cui come superficie di attraversamento della corrente considero una superficie che attraversa il condensatore, in cui la circuitazione risulta 0 e che quindi darebbe un campo pari a 0. Bene, questo ed altri paradossi che si mostrarono quando queste cose vennero studiate per la prima volta, spinsero il fisico Maxwell a fare un'ipotesi, e quindi a dire che il teorema di Ampere mancava di qualcosa e questo qualcosa, questa mancanza, si esprimeva in quei casi in cui i campi non erano più costanti, come ad esempio durante la carica del condensatore dove il campo elettrico è variabile nel tempo. Così come un campo magnetico di cui varia il flusso attraverso una superficie chiusa diventa sorgente di campo elettrico, allora si ipotizzò che anche il flusso di un campo elettrico, laddove variasse, diventasse sorgente di campo magnetico, e che quindi nel teorema di Ampere bisognava aggiungere un termine di sorgente dovuto proprio alla variazione del campo elettrico. Quindi formulò il nuovo teorema di Ampere, che prende il nome di teorema di Ampere-Maxwell, dove la circuitazione del campo B lungo una linea chiusa γ è uguale a μ con zero per le correnti concatenate con la linea stessa, quindi le correnti di conduzione, i fili percorsi da correnti, i flussi ordinati di cariche, più un secondo termine che prese il nome di corrente di spostamento, perché l'unità di misura è proprio una corrente, ma che dipende dalle variazioni del flusso del campo elettrico. Questo termine, che è pari ad ε con zero per la derivata nel tempo del flusso del campo elettrico E attraverso una superficie s che ha come bordo γ. Capite che adesso questo teorema è completo e risolve questo problema di questo paradosso, spiega questo paradosso, perché laddove io scelgo come superficie s il cerchio di raggio R, non avrò variazioni di campo elettrico, perché al di fuori del condensatore non c'è un campo elettrico, e vedrò solo la corrente concatenata, la corrente di conduzione. Laddove invece scelgo come superficie s quella superficie che attraversa il mio condensatore, non vedrò più le correnti concatenate, ma vedrò il termine di sorgente che è dovuto al fatto che lì vi è un campo elettrico variabile. Quindi abbiamo unito campi elettrici e magnetici e quindi laddove un campo elettrico varia nel tempo diventa sorgente di campo magnetico e quindi prende il posto tra le sorgenti di campo magnetico all'interno del teorema di Ampere. Questo teorema è molto importante e lo riportiamo quindi nel nostro formulario, andando in qualche modo a completare il teorema di Ampere. Quindi la circuitazione lungo una linea chiusa gamma del mio campo magnetico B è pari non solo al contributo delle correnti concatenate, ma anche al contributo di eventuali campi elettrici variabili nel tempo presenti. Quindi ε con 0 per la derivata nel tempo del flusso del campo elettrico E attraverso una superficie s che, come vi ricordo, ha come bordo gamma. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.